Lavoratori in sciopero alla zona industriale di Caltanissetta. Si tratta di un gruppo di trasportatori merce UPS in Sittin, in uno dei punti snodo della città. Alla base della protesta la richiesta di questi lavoratori di equiparare il loro contratto a quello dei loro colleghi del nord Italia. Oggi siamo qui per rivendicare il diritto di avere la giusta contrattazione, che sarebbe il merce logistica, che qua l'azienda non ci riconosce. Siamo oggi per scioperare e anche per scioperare domani, fino a quando noi non arriveremo al punto che avremo i giusti diritti e saremo equiparati al resto d'Italia. Perché in Sicilia siamo veramente l'ultimi, perché non ci riconoscono il contratto che già la nostra siga sindacale ha fermato al nord Italia. Una richiesta diretta, chiaro anche l'intento di protrarre lo stato di agitazione anche per la giornata di domani, sempre alla zona industriale. Si tratta dell'applicazione contrattuale e dell'applicazione del contratto collettivo di cui loro hanno diritto, quello della logistica, che comprende particolari istituti a vantaggio di questi lavoratori, di contro rispetto a quello che invece hanno applicato, che è il contratto CISAL. Quindi oggi noi chiediamo il rispetto del contratto, dignità dei lavoratori, che ogni mattina consegnano i pacchi alle nostre case. Per noi diventa quasi normale che lavorino di notte, di giorno, di festa, però in realtà dietro c'è una situazione abbastanza drammatica per tutti loro. E noi oggi siamo qui con loro per manifestare per i loro diritti. Si attende ora la replica della ditta.